Mediaset S.P.A. è un'azienda italiana controllata dalla società olandese M.F. e Media for Europe N.V., parte del gruppo Fininvest della famiglia Berlusconi, attiva nell'ambito dei media e della comunicazione, specializzata primariamente nella produzione e distribuzione televisiva in chiaro e a pagamento su più piattaforme, oltre che nella produzione e distribuzione cinematografica, multimediale e nella raccolta pubblicitaria. Per tanti anni è stato un punto di riferimento nelle reti Fininvest. Ma ora dovremo dire addio alla sua presenza. Ecco tutti i dettagli da conoscere. Ecco la ricostruzione di tutta la vicenda. Come svelato dal settimanale Nuovo TV, i fan di Beautiful dovranno dire addio ad uno dei personaggi più storici della sop americana. Stiamo parlando della cattiva di Beautiful, Sheila Carter che dirà addio al suo personaggio dopo ben 30 anni di interpretazione. La più temuta della sop americana sarà infatti uccisa. Come si evince dalle puntate già andate in onda negli Stati Uniti. La puntata arriverà in Italia tra circa un anno. Nelle anticipazioni americane si scopre che la donna sarà coltellata da Steffi Forrester al termine di uno scontro molto teso. L'attrice Kimberlin Brown, che ha interpretato Sheila per più di 30 anni, ha rivelato il suo pensiero per la sua fine a Beautiful. Sono felice che sia stata Steffi a sconfiggere Sheila. Viva Steffi! Questo è il suo momento. Ha impiegato tanto tempo per neutralizzarla e finalmente ci è riuscita. Poi, infine, ha aggiunto, certo, credo che sarà un grande shock per tutti i fan del mio personaggio. Ora è arrivata davvero la fine per lei. Ma l'attrice ha svelato di essersi divertita davvero tanto in questi anni.